E allora torniamo, torniamo in questo luogo, ci ritroviamo dopo un anno a riparlare della Baia, siamo ancora in compagnia di Presentati Tu. Salve a tutti, mi presento, sono la responsabile della Baia, questa sala ricevimenti che tra l'altro è giovanissima perché esiste da circa tre annetti, precisamente si trova al Capodimilazzo, quindi potete immaginare lo scenario, perché comunque è una delle località più belle che ci sono qui in Sicilia, soprattutto per il panorama, molti di voi lo conosceranno perché comunque è una bella realtà, se non lo conoscete avrete modo di conoscerlo tramite appunto questa fiera. Veniteci a trovare anche perché, io ne parlavo anche con altri posti, Milazzo è diventato un posto importante, da una parte Taormina, dall'altra parte c'è Milazzo, perché Milazzo, soprattutto in quella zona, molto bella, c'è una vista bellissima, però è bello, noi diciamo è tutto bello, però insomma poi gli sposi, a parte la bellezza del luogo, vogliono anche trovarsi bene e mangiare bene. Certo, assolutamente, infatti noi è chiaro che una volta che gli sposi vengono a visitare la location e decidono appunto di affidarsi a noi, li invitiamo con i rispettivi genitori a fare la degustazione, perché è chiaro che oltre alla bellezza del posto, la cosa più importante a mio avviso è mangiare bene, anche perché si sa, noi siciliani siamo abituati a mangiare bene, quindi questo è importante. La Baia è un luogo anche per gli sposi, ma anche per il divertimento, perché insomma ci sono tantissime cose organizzate che vengono organizzate appunto all'interno di questo locale e poi insomma c'è anche, diciamolo che è una cosa importante, un ampio parcheggio, no? Sì, sì, la Baia è chiaro che intanto principalmente si struttura in esterno, nel senso che c'è un giardinè immenso, dove realmente è possibile mangiare all'esterno, proprio immersi nel verde, perché comunque si sa, la maggior parte dei matrimoni avvengono d'estate e quindi molti optano per uno spazio esterno, abbiamo il parcheggio interno e poi chiaramente c'è una struttura interna, perché comunque bisogna sempre considerare il caso in cui malauguratamente piove, quindi siamo preparati per entrambe le opzioni, piano A e piano B. Sempre pronti, sempre pronti. Allora, ricordiamo la Baia che si trova a Milazzo, un posto incantevole, soprattutto una location molto nuova, bella, elegante, un posto facilmente anche raggiungibile, tutti conosciamo la zona di Capo Milazzo. E quindi anche quest'anno presenti alla fiera di Per Noi Sposi, vi aspettiamo il prossimo anno. Sì, assolutamente, aspettiamo le future coppie, non solo qui ma anche al locale per visitarlo. Ok, grazie, grazie e ancora buona fiera. Grazie a voi.